Sicuramente con il rinvio delle Paralimpiadi e con questa quarantena imposta abbiamo dovuto tutti noi atleti cambiare totalmente il nostro allenamento, quindi io svolgo una parte dell'allenamento qui in casa, faccio esercizi sul terrazzo, con i pesi eccetera, mi è arrivato a casa finalmente da mondo questi 10 metri di Sportflex SX e posso fare esercizi di skip sul posto, piccole partenze con le chiodate e quindi questo mi permette di continuare questo tipo di allenamento anche stando nei pressi della casa e quindi tutti noi ci aspettiamo di essere e arrivare in gran forma per il 2021. Seguiteci e alla prossima! Grazie a tutti!